Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Dedichiamo l'apertura questa sera all'importante convegno che si è tenuto stamani al santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso, Abruzzo in sicurezza. Il tema era quello del dissesto idrogeologico, la prevenzione da queste forme di dissesto e ha partecipato anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, il servizio. Con il capo della Protezione Civile, qui oggi a San Gabriele, si parla di prevenzione del rischio. In Abruzzo gran parte del territorio è a rischio idrogeologico. Il sistema nazionale si è dotato anche di una struttura di missione presso Palazzo Ghigi Italia Sicura, c'è il Ministero dell'Ambiente, c'è il Dipartimento che in questo senso collabora con le proprie competenze in questa valutazione. In Abruzzo mi sembra una regione attenta a queste problematiche, però chiaramente bisogna modulare bene l'utilizzo delle risorse e soprattutto lavorare anche per quello che compete il nostro sistema su quella che è la prevenzione non strutturale, quindi conoscenza del rischio, diffusione dei buoni comportamenti nelle situazioni di emergenza e soprattutto evitare di fare errori strutturali come costruire laddove non si dovrebbe e quantomeno prenderne conoscenza laddove è già avvenuto. Si parla di emergenza anche perché sono mutate le condizioni climatiche nel nostro paese? Quelle rendono ancora più critico, già era critico il problema italiano perché per anni abbiamo fatto poco e certe volte anche male. Le criticità del cambiamento climatico aggravano la situazione, abbiamo preso, ci vogliono 10 anni di impegno forte per portare questo paese in Europa davvero su questo punto di vista. Abbiamo impostato un piano da 7 miliardi in 7 anni e anche dall'Abruzzo abbiamo cominciato, c'è un grossissimo intervento che facciamo su Pescara che dovrebbe andare in cantiere nei prossimi mesi. Insomma abbiamo iniziato questo viaggio che durerà degli anni. Si parla oggi di prevenzione del rischio delle emergenze, Mazzocca, un tema molto sentito su cui la regione Abruzzo ha investito risorse, uomini e tempo proprio per affrontare quelle che sono state le emergenze negli ultimi tempi. Su questo fronte noi insieme alle comunità locali abbiamo messo in campo un lavoro in mane con una dotazione progettuale davvero esecutiva che ci permette di essere attuali e intervenire velocemente. Purtroppo stiamo scontando un po' di ritardi che è accaduta, derivano dalla comunità europea dal governo centrale per alcuni vincoli che la stessa Bruxelles ha imposto alla struttura tecnica di missione. E' sempre il sottosegretario Mazzocca in una nota replicato all'allarme lanciato ieri da CNA Balneatori in merito all'andamento della stagione turistica in Abruzzo. Comprendo la preoccupazione della CNA sull'andamento della stagione balneare 2016 perché il turismo marino è una parte importante dell'economia regionale e dà lavoro a migliaia di persone. Partendo da questa consapevolezza la Giunta regionale ha investito oltre 170 milioni di euro per l'adeguamento del sistema di depurazione e delle reti fognarie e per la rinaturalizzazione dei fiumi. E ora la cronaca. Un uomo di circa 87 anni, Berardino Carrozzi, è deceduto nella tarda mattinata di oggi per un probabile malore mentre stava facendo il bagno nei pressi di uno stabilimento balneare a Rosetto degli Abruzzi quando qualcuno dalla battigia si è accorto che il corpo galleggiava sull'acqua ha lanciato l'allarme, un bagnino e un vigile del fuoco fuori servizio si sono gettati in acqua tirando fuori l'anziano. I sanitari del 118 hanno praticato le manovre rianimatorie ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. L'uomo, residente all'Aquila, si trovava da qualche giorno in vacanza a Rosetto con la moglie. E ora il prossimo servizio parliamo dello sciopero di 24 ore indetto per la giornata di domani dalla UGL Auto Ferro Trambieri. Uno sciopero di 24 ore per i ferro trambieri, l'UGL lo indice per il 6 luglio, tutto questo riporta ai contratti di armonizzazione. Sì, noi il 26 ottobre non abbiamo firmato il contratto di secondo livello per ovvi motivi perché ha prodotto discriminazioni addirittura tra lavoratori e sempre con la premessa del Presidente che tutti mettevano tutto, nel senso che tutti quanti facevano sacrifici, invece si è riversato soltanto sul personale viaggiante, sul personale e addirittura sul personale viaggiante ancora di più. Mentre nelle stanze dei bottoni gli sprechi continuano, come la nomina del quinto consigliere d'amministrazione, per due anni la consulenza legale esterna, nonostante tutto che in azienda già sono presenti quelle figure. La nomina dei ex direttori generali e presidenti, tutti quanti rimasti in azienda, da qua a togliere soldi nelle tasche dei lavoratori e dopo nelle stanze dei bottoni, ripeto, degli sprechi continuano, noi a questi giochi non ci stiamo. Noi ci aspettiamo che l'azienda in qualche modo, come c'è stato un tavolo romano e l'azienda aveva promesso in qualche modo di riaprire e vedere alcuni punti che non andavano, ma ad oggi non abbiamo visto nulla. Quali saranno le fasce garantite domani? Sono 5.30, 8.30 e 13.16. Un controllore aggredito e ferito per aver chiesto ad un viaggiatore di mostrare il biglietto sull'autobus sulla tratta Pescara Giulianova. Non è il primo caso ed ora la vittima lancia un appello per l'introduzione di forze pubbliche sui bus in supporto al personale viaggiante. In un mese e mezzo questa è la seconda aggressione, la tratta è quella Pescara Giulianova, questa è la conseguenza di aver chiesto a un passeggero il biglietto sopra un autobus. Quando sono arrivato all'altezza di questo ragazzo ho iniziato ad alzare la voce urlandomi addosso di tutto, allora l'ho invitato a fornirmi un documento per l'identificazione, anche se stili un verbale che poi va perso perché non hanno niente, non hanno niente su cui appoggiarti. Mi ha minacciato dicendomi che la seconda volta che chiamavo i carabinieri per lui la terza mi avrebbe ammazzato. Io lo invitai molto educatamente, come faccio con tutti, a scendere dal pullman e a quel punto ho visto che mi stava per sferrare questo pugno. Siccome mi sono reso conto della situazione riuscii a evitarlo parzialmente e mi prese sul setto nasale la fronte, poi gli presi la mano per non farmi colpire di nuovo, però con l'altra mano mi ha preso uno schiaffo, una botta. Qual è il vostro appello? Perché questo non è un caso isolato. Dateci un po' più di copertura perché noi siamo gente che la mattina si alza per andare al lavoro, non per fare a botte o non per fare una guerra in tringea. L'azienda dice che ha fatto questo incontro con le prefetture che ci garantiscono assistenza, che ci garantiscono quello che vogliono dire loro, ma noi da settembre che io faccio questo lavoro insieme al collega non abbiamo nessuna assistenza. Noi quando chiamiamo i carabinieri spesse volte non vengono, quando chiamiamo la polizia non viene per niente. Spesse volte quando intervengono invece di identificare questo ragazzo che comunque ci ha minacciato e roba varia, facendogli a meno una parte, mettendogli un po' di timore addosso, identificano a noi, chiedono i documenti solo a noi che li abbiamo chiamati. Restiamo in qualche modo in argomento, sindacati spaccati a basto sul caso dell'autoservizio Cerella. Denunciare l'accaduto la CGL che lamenta ritorsioni verso un lavoratore da parte delle altre sigle, lanciando un appello al presidente di Tua, D'Amico, e al governatore D'Alfonso. Un caso che spacca i sindacati al loro interno, arrivando a chiedere il licenziamento di un lavoratore, vittima di un incidente all'interno del piazzale di deposito dei mezzi pubblici di una partecipata tua. L'autoservizio Cerella di Vasto. I fatti risalgono ad ottobre, quando un autista, che cercava di salire sul bus, è stato investito dal mezzo riportando una prognosi di 15 giorni. Diciamo che i fatti si sono svolti all'interno del deposito aziendale, dove c'era un lavoratore che pretendeva di poter giustamente utilizzare il veicolo dell'azienda per recarsi dal deposito al capolinea, gli è stato impedito di salire sull'autobus e di conseguenza il lavoratore che si è immediatamente fatto notare dal conducente qui sullo spigolo anteriore è stato colpito dall'autobus e scaraventato a terra. Ci sono tre sindacati, Will Transporti, Fitti Cisle e Faisa Cisal, che chiedono il licenziamento di un lavoratore. Diciamo che è stato il loro primo intervento fatto all'insediamento del nuovo presidente Angelo Pollutri. Come primo intervento c'è stato quello di richiedere il licenziamento di questo lavoratore. Secondo la CGL la richiesta di licenziamento avanzata dagli altri sindacati sarebbe motivata dall'abbandono dell'autista in causa di un'altra sigla sindacale. L'uomo infatti uscito dalla Will avrebbe poi proceduto al tesseramento con la CGL. Riguarda dissidi interne sindacali ma riguarda soprattutto un accanimento con una parte dei lavoratori, io direi tra quattro lavoratori nello specifico, di cui il sottoscritto ovviamente ne è capofila, che oggi addirittura si traduce anche con un attacco diretto alla presidenza, perché si vuole far giustificare in qualche modo gli scioperi che si stanno facendo presso l'autoservizio Cerella come scioperi connessi alla mancanza di sicurezza delle fermate, quindi dell'esercizio, alla vetustata dei mezzi, ai mezzi sporchi, alla carenza di controlli, tutte questioni che se vogliamo risalgono a molto molto tempo fa e di cui il vero responsabile è solo ed unicamente il presidente Massimo Cirulli, che guarda caso Will Trasporti, Cisle e Pfizer si sono tenuti ben indenni dall'accusare e dal chiederne le dimissioni. Oggi noi facciamo appello in qualche modo al governatore Luciano D'Alfonso e al presidente, il magnifico rettore Luciano D'Amico, al quale sappiamo che i sindacati si sono rivolti per chiedere le dimissioni del presidente. Gli ex lavoratori della casa di cura Villapini di Chieti chiedono di essere pagati come creditori nell'ambito della procedura che oltre sei anni fa portò al fallimento dell'azienda. L'avvocato Alessio Di Carlo, che ne rappresenta una settantina, oggi ha fatto il punto della situazione in una conferenza alla quale era invitata anche la curatrice fallimentare Giuseppina Ivone, che non si è presentata. Credo che l'ammontare dovuto ai lavoratori sia fra 10 e 12 milioni di euro, ha affermato l'avvocato Di Carlo, quindi una cifra ampiamente inferiore ai 30 milioni di euro che erano oggetto del contenzioso con Santa Maria De Cryptis soldi che a questo punto ci sono, perché risolto quel contenzioso, almeno un piano parziale di riparto, forse a distanza di sei anni dal fallimento, i lavoratori lo meriterebbero. 180 lavoratori di consorsi di bonifica in protesta questa mattina per il mancato rinnovo del contratto. Le sigle sindacali hanno presidiato il Palazzo della Regione a Pescara per chiedere un incontro con le istituzioni e rimodulare i salari dei lavoratori che hanno chiesto un aumento del 6% in busta paga. Dopo 18 mesi di infruttuose trattative, lo Snebi, che è il sindacato che rappresenta le bonifiche in Italia, ha rigettato tutte le nostre richieste. Tra l'altro la nostra piattaforma era molto moderata e le richieste erano assolutamente contenute, ma questo non è servito a rimuovere le incrostazioni e i pregiudizi che lo Snebi ha posto davanti alle nostre rivendicazioni. Questo ci costringe a scendere in piazza a proclamare una serie di iniziative e questa è una prima di una serie di scioperi che faremo anche a livello nazionale per rimuovere questa posizione di chiusura totale verso le nostre aspettative. Non c'è né sul piano salariale né sul piano normativo disponibilità a cercare soluzioni condivise che a nostro avviso sono fondamentali anche per avere uno strumento di gestione del processo di riorganizzazione perché il contratto a nostro avviso in questo caso, in questa fase, assume anche una valenza che è quella di avere uno strumento in più per poter gestire eventuali esigenze derivanti dalla riorganizzazione in atto. Quindi il contratto è che si intreccia con un percorso che ovviamente ci trasciniamo da tempo e quindi l'esigenza nostra è quella di sensibilizzare le istituzioni affinché si porti a Roma i livelli delle controparti. Il messaggio dei lavoratori è che si provi a sbloccare il rinnovo del contratto che è uno strumento fondamentale in questo caso. Quando si parla di diritto salariale a quanto ammonta la perdita dei lavoratori in questo momento? La perdita dei lavoratori è abbastanza alta. Noi abbiamo chiesto un 6%, loro vogliono andare a un 2,7% con un indice IPCA che per noi è improponibile. Fare fuori addirittura l'anno 2015 non considerarlo per niente, quindi per noi è inconcepibile accettare questa situazione. Noi andremo avanti con una serie di iniziative, avremo lo sciopero il 28 luglio a Roma, lo sciopero nazionale e poi dopo vedremo quello che succederà, cercheremo di convincere la controparte in qualche maniera e quindi scenderemo in piazza di nuovo per queste iniziative. Il Consiglio di Amministrazione di Nuova Carichietti ha nominato Felice Delle Femmine, nuovo amministratore delegato dell'Istituto di Credito. Lo si legge in una nota dello stesso istituto delle femmine, prende il posto di Salvatore Immordino che assume l'incarico di amministratore delegato nella REV, la Bad Bank creata per gestire i crediti deteriorati delle quattro banche fra cui Carichietti dopo il salvataggio degli scorsi mesi. Contestualmente si legge sempre nella nota il CDA promosso Giovanni Zacconi, vice direttore generale della banca. E ora cambiamo pagina, andiamo all'Aquila, telecamere vicino ai cassonetti dei rifiuti e la mossa della ASM contro le discariche selvagge nate come funghi dopo il sisma. Basta con l'abbandono selvaggio ed indiscriminato dei rifiuti, quella che poteva sembrare una minaccia fine a se stessa per scoraggiare i maleducati, diventa realtà, con l'installazione delle telecamere in alcuni siti dove sono posizionati i cassonetti per conferire rifiuti. Secondo l'amministratore unico dell'ASM, Francesco Rosettini, l'occhio della telecamera sarà un utile strumento per scovare chi non rispetta la legge. Nel dopo terremoto, infatti, si è registrato un aumento degli abbandoni selvaggi dovuti molto spesso allo svuotamento delle case per le ristrutturazioni. Prima del sisma, basta guardare i dati, si producevano infatti 280 tonnellate di rifiuti. Ora si arriva sino a 2000 tonnellate. Da settembre poi, gli uomini dell'ASM saranno operativi e potranno anche fare le multe di ausilio dunque alla Polizia Municipale, in tal modo da rendere i controlli più capillari. Saranno aperti anche i sacchi lasciati nei cassonetti, saranno inviate ai cittadini buste di immondizia con codice a barre, che poi saranno aperti a campione. Per quanto riguarda invece i lavoratori, il Comune dell'Aquila sta predisponendo la delibera che autorizzerà il personale interinale chiesto dall'ASM. Si tratta di 8 unità da impiegare per il trattamento delle macerie. La questione aveva scatenato molte polemiche politiche. Gli 8 però non graveranno sul contratto di servizio, ma rientrano nel piano economico dello smaltimento delle macerie, ha spiegato l'amministratore Rosettini. I 20 saranno compresi nel contratto di servizio, facendo delle economie e senza alcun onere aggiuntivo. Il personale si è reso necessario per l'ASM, che ha avuto picchi di richieste di ferie, secondo quanto spiega Rosettini, in contemporanea di 34 dipendenti. Le ferie sono sacrosante e così si è dovuto ovviare con questa delibera. Ora parliamo di sicurezza sui posti di lavoro, un protocollo di intesa tra Regione Abruzzo e INAIL per avviare una serie di iniziative comuni tra le novità, nuove banche dati per operare sul piano della prevenzione. Questo è un accordo sottoscritto con l'INAIL, si parla di uno scambio di banche dati, qual è l'obiettivo? Il secondo accordo che sottoscriviamo, il primo a valere sulla riabilitazione, i lavoratori infortunati abruzzesi hanno finalmente la possibilità di accedere a quelle prestazioni ulteriori, chiamate extra-lea, che l'INAIL garantisce con un fondo speciale. Prima non era così. Il secondo protocollo di intesa, quello odierno, interviene sulla prevenzione, cioè prima che gli eventi accadano, uno scambio di informazioni tra banche dati che consente alla sanità di agire nel miglior modo possibile verso il lavoratore e l'INAIL di darci questa collaborazione molto utile. Credo che sia un passaggio importante per il mondo del lavoro della Regione Abruzzo. Noi interveniamo sul piano nazionale della prevenzione, che è stato recepito con il piano regionale, ci sono tempi, cronoprogrammi, indicatori, che in sostanza intervengono su tutte quelle che sono le conoscenze sullo stato di salute, che interviene grazie a l'INAIL su ulteriori informazioni che possono essere in grado di prevenire, per esempio, diverse neoplasie, e questo scambio di informazioni che è a disposizione dell'INAIL interviene dentro il sistema sanitario regionale, che dunque interviene prima ancora che un evento possa verificarsi rispetto a certe patologie così importanti. Verrà presentata domani la nuova giunta comunale di Rosetto degli Abruzzi, il neosindaco di Girolamo a cinque giorni dalla proclamazione, già al lavoro. Sindaco di Girolamo, al lavoro per la nuova giunta, ormai è questione di ore. La nuova giunta sarà presentata domani alle 11 nel Palazzo Municipale e ora, 9, sabato, ci sarà il Consiglio Comunale Solenne, dove giurerò e presenterò le linee programmatiche e presenterò anche la nuova giunta. Rosetto, siamo in piena estate, ovviamente si parla di turismo, quali sono le urgenze, i primi provvedimenti che prenderà il nuovo sindaco di Rosetto degli Abruzzi? C'è la necessità di stare in comune, di continuo, perché ce ne sono tante. La prima cosa è la manutenzione della città, presentarci il più possibile bene, per quel poco che si può fare in 15 giorni, presentarci il più possibile belli ai turisti. La stagione sta per entrare nel vivo, state pensando a qualcosa di particolare, proprio per attrarre ancora più presenze, anche dalle altre parti della regione? Noi quest'anno abbiamo trovato delle iniziative già programmate dalla vecchia giunta e non abbiamo avuto il tempo materiale di innovare, quindi avremo Rosetto per la prima, avremo la mostra dei vini, avremo la sciabica, la pesca con la sciabica e avremo delle iniziative collaterali organizzate dalle associazioni, dalle palestre, dalle scuole di danza, però non abbiamo avuto la materiale possibilità di programmare qualcosa di originale. Oltre 100 camion da tutta Italia e non solo sono stati esposti nello scorso weekend a Montesilvano per il raduno del mare dell'History Truck Team, grande soddisfazione espressa dagli organizzatori. Ha riscosso successo, al di là di ogni più rose aspettativa, il raduno del mare dell'History Truck Team che si è svolto sabato e domenica scorsi a Montesilvano nel parcheggio antistante, il Palacongressi. Oltre 100 camion in esposizione arrivati da tutta Italia e non solo, tanti gli allestimenti pensati e realizzati. All'esposizione si sono aggiunti momenti di intrattenimento come i sexy truck wash e gli stand gastronomici, una prima edizione che ha pienamente soddisfatto gli organizzatori. Stiamo rimanendo sempre più colpiti dalle persone che stanno arrivando, anche personaggi inaspettati, con camion nuovissimi da presentare qua, siamo veramente molto contenti. La particolarità di questo evento è che è il primo in riva al mare in Abruzzo, io penso il primo in riva al mare in tutta Italia, ed è stato proprio il mare che ha fatto da richiamo per tanti appassionati. Abbiamo più di 80 camion provenienti dal sud, dal centro, dal nord Italia e da Zurigo, una donna da Zurigo. Pieno pieno di spettatori, visitatori che non hanno niente a che vedere e fare con il camion. Ho deciso di creare questo evento e farlo crescere il più possibile. Rinnovo l'invito all'anno prossimo. Da oggi fino a giovedì Notaresco ospiterà una masterclass organizzata dall'associazione I Musici Lotariani. Ospite d'onore sarà il solista di fama internazionale Alessandro Fossi. Tre giorni di masterclass a Notaresco, ma davvero il 6 luglio, poi ci sarà un appuntamento importantissimo. Si parla di un solista di fama internazionale, perciò un evento nell'evento. Sì, il maestro Alessandro Fossi che è considerato il più bravo musicista per quanto riguarda il basso tubo, uno strumento particolare che di solito si può ammirare nelle bande musicali. e la masterclass di tre giorni con dieci allievi, quindi numero chiuso, provenienti da tutta Italia. Il maestro Fossi ha suonato con le più importanti orchestre al mondo e è stato diretto anche dai più grandi direttori d'orchestra del mondo. L'occasione monica in Abruzzo, l'evento è stato possibile e sarà possibile grazie al contributo dalla Fondazione Tercas, il BIM, il patrocinio del Comune di Notaresco e di uno sponsor tecnico, la Buffet Crampon, la celebre fabbrica di strumenti musicali francese. Quali saranno le atmosfere che accompagneranno la serata? Saranno proposti dei brani originali per questo tipo di formazione, orchestra di fiati, di 40 elementi, che si distingue dalla banda tradizionale italiana, dalla presenza di due contrabbassi ma anche strumenti insoliti per la banda come il fagotto oppure il corno inglese. Per quanto riguarda il repertorio, oltre a brani originali scritti per questa formazione, anche colonne sonore di film che si addicono molto a questo tipo di orchestra. E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Pescara e Stendardo il favorito per la difesa dopo il no di Aieti, l'Atalantino avrebbe già l'accordo con la società biancaazzurra. Per l'attacco si parla anche di Pinia che sembra però inarrivabile di Massimo e sostanzialmente un giocatore biancaazzurro, oltre 400 invece gli abbonamenti sottoscritti nelle prime ore di apertura della campagna. Stendardo, Gionberg e Tröst sono questi nomi nuovi in casa biancaazzurra per la difesa dopo il no di Aieti. Il 35enne Atalantino è il giocatore più vicino al Delfino. La società biancaazzurra avrebbe già l'accordo con l'esperto centrale che ha però ancora un anno di contratto con la società orobica. Ma è tornato forte anche il pressing del Pescara su Norbert Gionberg, centrale slovacco di 24 anni, ex Catania ma di proprietà della Roma. Il giocatore è gradito al tecnico Massimo Oddo che spera di riavere anche nelle prossime ore Alessandro Crescenzi dalla Roma. Più indietro l'ex lancianese Tröst nell'ultima stagione al Novara con Marco Baroni. Nelle ultime ore Radiomercato ha parlato anche di un sondaggio del Pescara con il Milan per Rodrigo Eli. Per l'attacco si riparla invece di Suarez ma l'Anderlecht dovrà abbassare le pretese economiche. Rumors riferiscono anche di un presunto interessamento della società adriatica per quanto concenne l'attacco per l'Atalantino Piniglia, giocatore che però sembra al momento inarrivabile per il Delfino. Oggi intanto il Pescara chiuderà con il Santomero per il passaggio in biancaazzurro dell'attaccante ventenne Alessio Di Massimo, l'ex Juventino partirà per il ritiro e verrà poi valutato. In caso di bocciatura ci sarà la cessione in prestito ad una società di serie BioLega Pro. Infine sono oltre 400 gli abbonamenti sottoscritti fino a questa mattina dai tifosi biancaazzurri. Grande l'entusiasmo dei supporters adriatici che sembrano credere nel progetto del patron Sebastiani. E ora la Lega Pro, il Terramon nelle prossime ore attende una risposta dall'attaccante Marco Sansovini, il giocatore di proprietà del Pescara, ha dato la sua disponibilità ma ci sono ancora degli aspetti da rimare. Intanto giovedì potrebbe essere il giorno decisivo per la permanenza in bianco rosso di Scipioni. Le prossime ore potrebbero essere decisive per stabilire se Marco Sansovini sarà il nuovo attaccante del Terramo. Quella di ieri è stata tutto, meno che una giornata interlocutoria. Partita in mattinata con un primo approccio non positivo prima della conferenza stampa di presentazione della campagna Abbonamenti 2016-2017. Poi nel pomeriggio altro incontro con le parti che si riavvicinano sensibilmente quasi fino all'accordo. Nel tavolo a tre dove siede per forza di cose anche il Pescara, proprietario del cartellino di Sansovini, si cerca la quadratura del cerchio e alle 19, minuto più, minuto meno, c'è la fumata grigia tendente al bianco. Ottimismo filtra dalle parti di via Oberdan. Nelle prossime 24-36 ore nuovo aggiornamento per il sì o il no definitivo. Intanto la rosa sta per essere completata. Oggi Di Paolo Antonio e Palestini dovrebbero passare proprio al Delfino, rimanendo in bianco rosso in prestito per un'altra stagione. Da valutare le situazioni di Tonti se ne parlerà tra qualche giorno, di Scipioni rimarrà e giovedì sarà il giorno decisivo e Amadio. Bisogna definire con loro, l'abbiamo fatto con Speranza, con Caidi, stesso Di Paolo Antonio, Dorazio, quindi nel gruppo dei vecchi, con Petrella non c'è stato bisogno perché avevamo definito poco tempo fa, diciamo nell'anno in corso, con Scipioni e Tonti c'è da parlare, c'è da definire senz'altro, quindi poi vedremo appuntamente in settimana cosa ne uscirà fuori. Altre due idee e sarebbero due ritorni, quello di Piero Antonio Sassano che tornerebbe a Teramo a distanza di due anni, Campitelli ci fa un pensierino e in settimana potrebbe valutare la cosa con il suo agente. Così come vorrebbe riportare in Abruzzo Stefano Moreo, che in una stagione complicata ha fatto comunque vedere buone cose. Poi inizierà il ritiro di Ovindoli con la squadra fatta o quasi in attesa delle prime amichevoli precampionato. Amichevoli prestigio il 24 luglio a Palena contro il Pescara, sarà sicuramente un appuntamento gradito a entrambe le tifoserie? Sì, entrambe le società e entrambe le tifoserie, questo credo sia importante. Con il Pescara c'è stato sempre un buon rapporto, quest'anno addirittura si sta per consolidare in maniera ancora più importante, quindi credo che l'amichevole sia una cosa piacevole per entrambe le tifoserie. Poi sarà in un campo dove certamente c'è bisogno dell'unione, perché è un campo che non sarà il Bonolis, che è strutturato in maniera diversa, quindi la vediamo in maniera positiva e sicuramente sarà piacevole. E ora la Serie D nel corso della conferenza di presentazione del nuovo organigramma della Chieti Calcio. Gli ultraneroverdi questa mattina hanno fatto irruzione in sala stampa e contestato i dirigenti. Il patron Pomponi ha abbandonato la conferenza. Una mattinata ricca di tensioni in casa Chieti. Doveva essere la giornata della presentazione del nuovo organigramma Neroverde con il direttore generale Riccardo Canuti e il neo DS Massimo Mutalipassi che affiancavano il patron Giorgio Pomponi. Ma l'irruzione degli ultra del Chieti ha mandato in frantumi i programmi dell'imprenditore romano che, a blitz concluso, visibilmente provato, ha preferito abbandonare una conferenza che lo stesso Pomponi aveva introdotto, dicendo la sua, sulla vicenda che a Chieti negli ultimi tempi ha fatto discutere. La nuova accordata che ha acquisito il titolo della Torre Alex in promozione chiedendo di giocare all'Angelini. Una vicenda così spiegata da Pomponi. Praticamente noi siamo stati contattati da due politici che vi rappresentano qui del PD di Chieti il quale abbiamo contato io e l'Avvocato Canuti. Questi signori inizialmente erano tanti programmi, anche perché poi non ho visto nessuno, questa famosa accordata di rappresentanti, ma bensì hanno mandato questi loro due missari. Noi abbiamo chiesto una cosa, loro hanno detto più soluzioni. Io all'unica cosa ho detto facciamo una bella cosa, i soldi in unità della Chieti Caccio, facciamo che i soldi vostri che voi fate, i 20 ipotetici imprenditori che voi siete, li mettete sulla Lega Pro, per il pescaggio della Lega Pro. A me non mi ha più chiamato nessuno. Appena abbiamo captato io e l'Avvocato Canuti, nonché il direttore di Chieti, che era soltanto per me, un mio modesto parere insieme a Riccardo, il fatto che potessimo diventare la succursale del pescato, no grazie. Per cui abbiamo rimandato l'offerta, ma senza che loro ci abbiano chiamato, per cui è una risposta. Noi abbiamo dato tre opzioni, nessuna risposta. Subito dopo la parola è passata il DG Canuti, il cui discorso è stato interrotto dall'irruzione dei tifosi neroverdi. La tensione sale alle stelle, con gli ultra che imputano alla dirigenza di aver fatto tante, troppe chiacchiere in questi mesi, ma pochi fatti. Quindi Pomponi abbandona la conferenza e si lascia scappare. Oggi è una brutta giornata. Una giornata che imporrà una riflessione all'uomo che appena un anno fa aveva raccolto l'eredità di Walter Bellia. Finisce qui questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.